Musica Nel primo giorno in cui tutta l'Italia è in zona di rischio Covid bianca, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha visitato insieme al Presidente della Regione Eugenio Gianni e all'Assessore Regionale Simone Bezzini alcune strutture del Servizio Sanitario a Prato e a Firenze. A Prato in particolare i due nuovi padiglioni dell'ospedale Santo Stefano e il nuovo centro Pegaso per malati di Covid costruito in tempi record lo scorso autunno. Nel giro di poche settimane, in un momento complicato per tutti in tutto il Paese, in Toscana e in modo particolare qui a Prato si è riuscita a dare una risposta all'altezza che credo sia servita moltissimo nelle ore, nei giorni dell'emergenza e credo servirà ancora in futuro perché le cure intermedie, il rafforzamento della rete territoriale sono un obiettivo che resta anche al di là della stagione del Covid. A Firenze invece il Ministro Speranza ha visitato il centro di cure intermedie di Villa Donatello e poi la Casa della Salute in funzione alle piagge. Sono molto contento di essere qui, di aver visitato questa Casa della Salute. è un modello positivo ed importante che dobbiamo provare a valorizzare anche in altre parti del nostro Paese. Noi abbiamo bisogno di rendere sempre più forte il nostro servizio sanitario nazionale e questo si fa a partire dalla parola prossimità. Dobbiamo costruire un servizio sanitario nazionale che sia il più vicino possibile alle persone, che risponda immediatamente alle esigenze delle persone dove queste vivono. La visita del Ministro Speranza ha coinciso anche col giorno in cui la Toscana ha raggiunto il primo milione di cittadini vaccinati contro il Covid con doppia dose, che si aggiungono ad altri due milioni di prime dosi. A giugno abbiamo potuto vaccinare 900.000 persone in regione, a luglio arriveremo a 600-650.000, ma al di là della prenotazione, come avete visto, ieri 32.000 vaccinati e l'altro 33.000 vaccinati, cioè il ritmo delle vaccinazioni con le prenotazioni che sono state fatte sta andando veramente bene. Il fatto di essere tra le prime cinque regioni, aver vaccinato dai sessantenni in su, compresi i 450.000 iperfragili, è la dimostrazione che abbiamo osservato e siamo stati in linea con quanto il Ministro Speranza e il Generale Figliolo ci hanno sempre indicato. Un nuovo centro vaccinale anti-Covid in Toscana è quello nel centro commerciale Igigli a Campi Bisenzio. Si tratta di uno spazio in cui possono essere somministrate fino a 220 dosi al giorno e fino al doppio con i richiami. La tensostruttura, 250 metri quadri, è aperta dal lunedì al venerdì e l'Hub è gestito dalle farmacie di Farmapiana. All'inaugurazione erano presenti il Presidente della Regione Eugenio Gianni, l'assessore regionale Monia Monni e il Sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Con questo arriviamo a un numero molto vicino ai 90 Hub e 90 significano la capacità di somministrare che ieri ci ha portato a 35.000 vaccini in una giornata. Ormai da giorni siamo sopra i 30.000 vaccini e il fatto di aumentare gli Hub consentirà di aumentare i numeri di questa vaccinazione che ha visto nella giornata di oggi, anzi è la festa questo Hub per la giornata di oggi, a poter dire che abbiamo somministrato in Toscana più di 3 milioni di vaccini. Gigli e farmacie comunali Farmapiana hanno stretto questa collaborazione per incrementare le dosi somministrate nel loro bacino di utenza. Le farmacie comunali, che quindi sono dei comuni di Campi, Calenzano, Signa, Borgo San Lorenzo e la Stassigna, che fanno parte quindi del gruppo Farmapiana, confluiranno tutte qui, quindi noi abbiamo creato questo unico Hub vaccinale. Questo nuovo centro vaccinale è un esperimento pilota. È la prima volta che c'è una collaborazione di questo tipo tra due soggetti diversi come Gigli e farmacie comunali Farmapiana. I miliardi in arrivo dall'Unione Europea con il PNRR e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possono rilanciare in Toscana anche le zone montane. Di questo e della situazione in queste aree si è parlato agli stati generali della montagna che si sono tenuti al teatro della Compagnia di Firenze. Uno degli obiettivi perseguibili grazie al PNRR è quello di contrastare lo spopolamento delle zone montane. Servono progetti esecutivi e piani di lavoro pronti. È un territorio fondamentale, il territorio montano, le aree interne. È un territorio fondamentale anche per le aree più densamente urbanizzate. Ormai i cambiamenti climatici, gli eventi e anche un po' il Covid. Ci hanno dimostrato che se non mettiamo molta attenzione sulle aree montane, sulle aree interne, anche le aree a valle ne soffrono e ne soffrono molto. Quindi una politica per la montagna, che sia una politica naturalmente trasversale, è indispensabile. La vicepresidente regionale ha sottolineato che nei comuni deve essere incrementato il personale tecnico per poter preparare i progetti. La riflessione sulla montagna è stata portata avanti insieme ad Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Cosa chiedono i territori? I servizi, innanzitutto, a partire da quelli economici, quindi lo sviluppo delle infrastrutture che servono alla montagna. Ognuno ha le proprie peculiarità. Il casentino ha delle necessità diverse. Forse la Garfagnana, che a sua volta ha necessità particolare rispetto all'Unigiana, ma ti chiedono tutte infrastrutture. Pensiamo, per esempio, alla banda larga e alla possibilità delle infrastrutture digitali, ma anche la possibilità di raggiungerci. E poi collegamenti veloci, appunto, anche tramite il trasporto pubblico, politiche di incentivi per quanto riguarda, per esempio, la scuola e la capacità, appunto, di avere la possibilità di muoversi anche attraverso la riorganizzazione del tessuto scolastico. Tante le iniziative da poter mettere in campo per preservare e valorizzare queste aree che rappresentano circa il 70% del territorio regionale. Le prenotazioni dei vaccini anti-covid per i toscani, che hanno meno di 60 anni e sospese da più di 10 giorni, riprenderanno la prossima settimana. Lo ha annunciato il presidente della regione Eugenio Gianni, dichiarando che tutti gli appuntamenti per le prime e le seconde dosi già fissati fino al 31 luglio, sono garantiti. Per quanto riguarda il mese di agosto, la regione è in attesa delle comunicazioni ufficiali del commissario straordinario e generale Figliuolo. Gianni ha precisato anche che, al momento, non è possibile riattivare sul portale regionale la funzione Modifica prenotazione per anticipare i richiami, perché non ci sono vaccini a sufficienza. Per il mese di luglio, le forniture annunciate dai produttori alla regione sono inferiori a quelle consegnate a giugno, e questo ha messo in crisi le agende vaccinali. Al momento, si sa che a luglio, arriveranno 477 mila dosi di vaccino Pfizer, 135 mila 800 di Moderna, 78 mila di AstraZeneca e 12 mila di Johnson & Johnson. Finora la Toscana ha somministrato 3 milioni e 90 mila dosi di vaccino, mentre sono 1 milione e 93 mila i cittadini che hanno completato il ciclo con la seconda dose. Nelle ultime settimane, però, due delle categorie più a rischio, i sessantenni e i settantenni, hanno rallentato le prenotazioni, nonostante siano le uniche che possono prendere l'appuntamento sul portale regionale. All'appello mancano ancora 100 mila persone. La tecnologia al servizio di Dante per coinvolgere il pubblico più giovane. Stiamo parlando di un'iniziativa promossa da Unicop Firenze e dal Museo Casa di Dante in collaborazione col Comune e supporto tecnologico di ETT. Sulle mura della città sono stati riprodotti sette passaggi dell'inferno, illustrati da Marco D'Ambrosio Maccox, declamati da Francesco Pannofino e spiegati dallo storico Franco Cardini e dal presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. L'accesso a questi contenuti esclusivi è possibile grazie ad una nuova app scaricabile sugli smartphone. Ma c'è anche la possibilità di compiere un viaggio virtuale nell'inferno dantesco attraverso una postazione e un visore collocati nelle piazze della città. La peculiarità di questo progetto è che integra due tipi di realtà virtuale diversa. C'è la Cinematic VR, quella cinematografica, con riprese da reale, e invece un'integrazione poi in realtà in computer grafica per tutto ciò che riguarda le ambientazioni descritte dalle terzine dantesche. Il cortometraggio in realtà virtuale è intitolato L'Inferno, un viaggio immersivo e dura sette minuti. È una selezione di episodi dove si entra nella selva oscura e si assume il punto di vista di Dante. Da lì si entra nella porta dell'inferno fino alla selva dei suicidi, compiarte le vigne, fino ad arrivare al lago di Cocito, che è il girone dei traditori, e infine ci si trova di fronte a Lucifero che dispiega queste grandi ali e ghiaccia l'ultimo girone dell'inferno. Devo dire che la sensazione che si ha essendo con quegli occhiali e guardando dentro a quello schermo è sconvolgente come quello che racconta Dante sia veramente moderno. Moderno in una maniera incredibile anche a 700 anni di distanza dalla sua morte. Dopo l'interruzione obbligatoria del 2020 a causa della pandemia di Covid, i cittadini di Viareggio e le istituzioni hanno potuto di nuovo piangere e commemorare le 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno del 2009, quando un treno merci carico di GPL esplose mentre transitava fra le case, provocando morte e distruzione. Le tante manifestazioni della giornata sono culminate nel corteo della memoria che ha percorso la città fino a Via Ponchielli, dove alle 23.48, l'ora del deragliamento e della deflagrazione del treno merci, sono state ricordate le vittime mentre i treni di passaggio salutavano fischiando in segno di partecipazione. La vicenda giudiziaria per individuare i responsabili della strage non si è ancora conclusa. Nel gennaio scorso, la Corte di Cassazione ha confermato alcune delle condanne in secondo grado per disastro ferroviario colposo, ma ha cancellato l'aggravante del mancato rispetto delle norme per evitare gli incidenti sul lavoro. Di conseguenza, il reato di omicidio colposo contestato ad alcuni imputati è andato in prescrizione e la Corte di Appello di Firenze dovrà ricalcolare le pene a loro inflitte, diminuendole. Toscana Salute è la nuova app della Regione che consente ai cittadini diverse attività in ambito sanitario e già disponibile e scaricabile dagli App Store. Con Toscana Salute si possono consultare i referti di esami fatti, scaricare le ricette per comprare farmaci o prenotare visite, consultare il libretto delle vaccinazioni, scegliere il medico di famiglia, consultare la propria fascia di esenzione e molti altri servizi importanti come conoscere l'esito dei tamponi per il coronavirus o scaricare il Green Pass. È un mini portale Toscana Salute con il quale ciascuno di noi può accedere alle ricette, alle prenotazioni, alle analisi che ha fatto. Veramente una cartella clinica a tutto campo articolata su 24 icone che ci possono consentire di avere dentro e per il nostro telefonino tutti i servizi che poi anche guardano al futuro. Per utilizzare l'App Toscana Salute è necessario avere un'identità digitale dallo stesso smartphone, si può gestire anche la situazione sanitaria di altri familiari. Un passaggio, quello al digitale, obbligato per un futuro sostenibile e accelerato dalla pandemia di Covid-19. Se noi immaginiamo quello che eravamo e come ci rapportavamo al sistema sanitario prima del febbraio, diciamo, dello scorso anno, e immaginiamo come ci rapportiamo oggi, io credo che ognuno di noi possa comprendere quanto sia cresciuto l'approccio digitale ai servizi sanitari. Portiamo via dal Covid-19 anche nonostante la tragedia che questo ha determinato, ciò che ci ha insegnato e ciò che ci può essere utile per cambiare e migliorare il sistema. Abbiamo bisogno di dare strumenti alla popolazione in modo tale che si possa accedere ai propri dati stati sanitari in maniera rapida. La Toscana sta facendo un ulteriore passo avanti. È uno strumento straordinario perché una delle cose di cui abbiamo più bisogno è l'accessibilità e la fruibilità dei servizi che sia una accessibilità possibile e facile per tutti.